Ciao a tutti, oggi un nuovo video tutorial per il DT di YouplaCraft. Per l'occasione ho realizzato questa scatolina che può essere sostituita al classico biglietto. Questa scatolina nasconde al suo interno un semplicissimo meccanismo e una volta aperta la scatola il meccanismo si apre e lascia scendere una pioggia di fiorellini. Spero che il video potrà piacervi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.